C'è da riconoscere ai comuni quella autonomia che la Costituzione prevede che in questi anni è stata mortificata da una decretazione costante e continua e che ha messo sotto sopra il nostro modo di lavorare. Noi siamo persone responsabili, lo dimostriamo tutti i giorni facendo i sindaci. Nel momento in cui chiediamo un tavolo di confronto di negoziato non ci muove nessun spirito rivendicativo o corporativo. Ci sediamo sapendo che vogliamo fare la nostra parte, concorrere a definire le scelte di cui l'Italia ha bisogno per uscire dalla crisi ma tutto questo lo vogliamo fare attivamente partecipando con le nostre idee, le nostre proposte perché i comuni sono parte essenziale della risposta che il nostro Paese deve dare alla crisi. Senza i comuni e il loro attivo concorso uscire dalla crisi sarà più difficile.